Arte, gusto, tradizione ma anche tanto divertimento per i più piccoli. Torna a Benevento l'appuntamento con la festa del cioccolato. La manifestazione è giunta ormai alla seconda edizione, è aperto questa mattina agli stand ai cittadini sanniti e da subito il successo non manca. Oggi parliamo di cioccolato, quindi cerchiamo di addolcire questo weekend ai Beneventani, ai sanniti più in generale, sperando che sia apprezzata così come è stata per l'anno scorso la prima edizione. Qual è l'obiettivo di questa manifestazione? Si punta molto sull'artigianato, sulla tradizione? Sì, solo prodotti interamente artigianali. Infatti la ciocomora è formata da maestri cioccolatieri e artigiani. L'obiettivo è portare in piazza, nel centro storico, sul corso, l'arte della lavorazione artigianale del cioccolato. Quindi non solo il cioccolato come prodotto in sé, come alimento, ma anche proprio l'arte della sua lavorazione. Ci teniamo molto nelle manifestazioni a fare dei laboratori didattici per bambini, perché? Per fargli proprio conoscere le vere, come le origini, come viene prodotto, eccetera, giocando. Quindi ci sono gli animatori che hanno questo compito di far capire e infondere questa cultura. Voi venite da Palermo a Benevento per portare l'arte e la tradizione del cioccolato? Sì, noi portiamo l'arte del cioccolato e l'arte dei prodotti siciliani. Portiamo tutto quello che è in base di cioccolato, lo trasformiamo con i classici cannoli siciliani, con le cassate fatte siciliane, abbinando sempre il cioccolato in tutto. La pasta di mandorla è fatta con il cioccolato. Da dove viene? San Donato di Piave, provincia di Venezia. Abbiamo il piacere di ritornare qui a Benevento. L'anno scorso eravamo a marzo, quest'anno abbiamo anticipato a fine gennaio. Cosa ha portato di particolare nel sanno? Noi portiamo sempre la passione e la ricerca della materia prima. Sembra un gioco di parole, ma è questo. Noi lavoriamo per passione. La nostra azienda ha iniziato negli anni 60 con i liquori e poi si è specializzata nel cioccolato. Abbiamo portato le ciliegine con distillato di marasca della zona di Vicenza. Il paese si chiama Marostica.